TG News BNB Show Di nuovo su MyTechnory MyNews Basso del Casale A Cocci A voi Basso Canuso A Cocci In studio Toni Cericola Un salutoni alla direttrice Antonella Salvatore E Aurora E' la nostra plisola Un tracking di auto E la vostra plisola Iubbet Proprio questa è la notizia del giorno dell'anno del secolo, la notizia è CLAMORUSARE e quella che ha la notizia? e la notizia è che il tunnel si farà e si farà sì e infatti il progetto si chiama TTT cioè è una chimica è una chimica no, TTT sta per termoli tremiti tunnel TTT è il nuovo progetto interplanetario interportual che unirà la nostra cittadina con le isole tremiti cioè interplanetario perché? perché uno come che? il tunnel ma tu non si fanno come usare ad esempio Bortoso invece un sacco di Bortoso oppure invece un sacco di Bortoso oppure Foro così perché Sbrocca può fare un cazzo a tutti i costi ma che Sbrocca? è un principe del Foro comunque tunnel con un altro significato? per esempio orifizio sticchio c'è cavuta che c'è da cavuta? oppure tunnel come black hole che può fare un bletto? ah per il sole vari termoli termoli vari come? facciamo vocabolare un significato di tunnel e uno solo un buco buco un buco ahah e qui che casca l'asino quindi un buzzo ma no non vuole buzzo il vero motivo che è indignante i termolesi sai qual è? gli termolesi stanno tutti ingazzati noi avevamo un paese della mazza è certo infatti era un orgoglio per noi termolesi il fatto che la mazza così virile era il nostro simbolo mazza de Castilla mazza foia mazza e cuzzo mazza frango per tutti i tortoli i mazzi di bandiere i mazzi che hanno messo più cuzzo insomma insomma e ora e ora premiamo un simbolo d'avanzi e ora e ora buco 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 eh va buona e siccome da B&B va oltre la notizia va oltre la notizia va oltre la notizia va oltre la notizia noi che facevano? niente senza la coccia di un buco e vediamo come va a fare il suba cioè torniamo giornalisti no? si perché e torniamo giornalisti per un attimo e vediamo un attimo si perché va bene va bene che l'ammarico dei termolesi l'ammarico dei termolesi ma qui stiamo parlando di un progetto comunque milionario se questi punti un progetto milionario che comunque darà dei benefici alla nostra città alla nostra città e alle isole Tremidi alle isole Tremidi c'era perché il tunnel secondo il progetto interplanetario partirà proprio dalle isole Tremidi cioè com'è una fubuca? ma è scena allora a San Domestano andando i traverni d'inglese che dovevano trovare il petrolio e allora ci portano andando a capa e com'è una fubuca e com'è una fubuca e venne verso dentro e tutto ovviamente tutto sott'acqua 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 un tunnel sottomarena sottomarena tutto trasparente il prete il plastico il plastico si vediamo quanto è bello il suo progetto è bello prima cosa sotto il tunnel ci puocavano solo la pede come solo la pede? solo la pede è un ecotunnel 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 ecco 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 se tu hai sempre aperto da una pozzatura tu ti metti a una pozzatura e non riesci a santo e io ti allucco basso, basso, basso che te mi voglio, voglio io dico io dico io ti metto in un pozzatura per un secondo, secondo per un secondo, io ti metto in un pozzatura tu hai fatto un pozzatura c'è pure il sole a piedi solo a piedi solo a piedi eeeh se per esempio tu sti in due tunnel ti vede da fare una piscina per esempio ad esempio? ad esempio hanno messo i bagni da zico buco zico buco e ad esempio se tu puoi passare tu non andassi se tu puoi passare, hanno fatto i parcheggi all'ambito fanno i parcheggi all'ambito all'ambito ma la gente all'ambito andavini ci capo dal palco c'è lì e c'è ti capo dal palco poi c'è uno sottofondo il tunnel il tunnel sottofondo musicale il DJ andrei buco buco andrei buco buco fanno fumo se per esempio tu puoi mangiare se tu puoi mangiare due sardinite due città ogni cento metri hanno fatto la ricostruzione fanno la ricostruzione dei trabuchi i trabuchi si però a cosa mai hai visto? ero quelli a tu ma io mi ho toccato quindi a romani qui è pura a romani a termoli e comunque potrebbe sembrare torniamo un po' potrebbe sembrare divisa tra favorevoli e contrari al tunnel sembrano tutto così non siamo riusciti a trovare uno favorevole non abbiamo fatto fatica a trovare abbiamo trovato un solo favorevole allora io questa intervista vorrei che il nostro Tony Cericola ma questo è che sta fuori di testa sto ragazzo può mandare può mandare il video manda il contributo guardate l'intervista questo l'avete visto? andiamo a provare a intervistare dai andiamo andiamo a intervistare ma che sta facendo? manca la margaret scusi 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 e' una cosa una cosa che fai la città c'è stagione ma che fii stagione stagione che faccio? mi attesto faccio tiroci c'è la stagione c'è la scusa c'è la scusa un po' che quel è un po' che bene perchè qua stiamo in via Nandia e ha un parcheggio bellissimo che cuozo però il custode c'è il custode che ha i cammini non possono crescere fuori da lì dai ma non c'è nessuno ascolta allora ci hanno detto ci è arrivata voce che lei ha il parere favore che vuole sfruttare sopra un tunnel un tunnel che ha una fotta una bella cosa questa ma com'è una bella cosa è una bella cosa e perchè è una bella cosa? è una bella cosa perchè quanto cosa io mi fai dei gatti no? tu perchè c'è qua tu vedi quanta magra sta? eh oh andiamo a me andiamo a me prima o poi ma fanno una cosa più solo un po' e fanno una buona parte del parcheggio poi c'è mi trasferisce il vicino a te si capisce? e quindi? e quindi se hai il più vicino a te sei più comodo di io e quindi sono favorevole ecco questo fa così quando da parcheggio c'è che e capito e qui c'è il più vicino a te ho capito allora signore e signori vi lasciamo con l'unico voglio lavorare io perchè qua ci sono un sacco di cose da sistemare che ogni tanto mi affaccio va bene, grazie, grazie molto beh, andate perché vi ho lavorato l'aria andate, andate per struscia la mattizia B&B show, mai termoli, mai niente non mi avete potuto constatare qualcuno favorevole c'è sì, vabbù, comunque il dibattito più importante è avvenuto in consiglio comunale un referendum tunnel di cinque step infatti, schiaffa cazzotta, mazzata il tutto forte, il denuncio per la mattizia spaventare un sindaco, un sindaco di prima, di prima un sindaco ah, se non dovete proprio fare questo tunnel almeno metteteci i led e non ne voglio più i led e avvicinare la tunnel quella della parata da me che ce ne stanno sebastiene di campi allora che ci ha messo a fare una flessione in tutto ciò c'è stato sprocco ma anche tu un gatto non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è per prendere tempo i palleggi i palleggi il tunnel di francia è un tunnel di francia noi in francia ce l'abbiamo il traforo di Monte Bianco quindi tu le si va e lui tu ma lui invece che scendola la porta reda reda però ha distrutto l'assessore no, no, questo è fuori ordre e poi fuori ordre è arrivata l'assessore e guarda e tu la galleria cioè a fuori e qui ce l'anno le galleria e galleria e insomma a te ci danno mazzo per un buco ci danno mazzo per un buco e certo e quindi è mazzo e buco e buco e buco e mazzo tengo l'è quando si pazza sono fuori dal tunnel e sono contento e se 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 sono fuori dal tunnel e sono contento e se 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 passo nel calzato quando esco di casa e mi annoio sono molto contento quando esco di casa e mi annoio sono molto più contento di te che spendi stipendi sti fatto imposti stupendi tra culi su cubi su cubi di bittorrendi su cubi brandi e ti spendi dandy non mi comprendi